buona giornata amici di fano tv ben trovati alla rassegna stampa oggi è martedì 13 dicembre 2022 13 dicembre di solito una data che si ricorda molto 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 bene per la santa che si festeggia oggi e la vediamo subito nell'almanacco del giorno vediamo santa lucia santa lucia martire vergine martire di siracusa fu martirizzata dopo essere stata denunciata dal suo promesso sposo avendo fatto lei il voto di castità i genitori le avevano procurato un buon matrimonio lei però aveva fatto segretamente questo voto di castità i figli genitori si sono rassegnati e però il promesso sposo si è vendicato denunciando la siamo nell'epoca dell'impero romano c'erano le persecuzioni e santa lucia fu martirizzata dopo aver subito anche molte atroci torture vediamo le previsioni del tempo e salutiamo santa lucia con la palma del martirio vediamo le previsioni del tempo vediamo che il tempo si mantiene perturbato su tutta la regione marche nuvoloso con deboli precipitazioni più frequenti però nella prima parte della giornata ci saranno anche delle precipitazioni nevose oltre i 600 metri in esaurimento verso la sera i venti sulle coste spireranno da una direzione di ovest nord ovest mentre nell'interno con una tensione debole est sud este le temperature sono ancora in calo le minime raggiungono i tre gradi le massime non superiori ai 5 gradi quindi abbiamo il freddo il freddo dell'inverno ed ora apriamo le pagine dei giornali a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fano dove vediamo la risoluzione di un caso che si manteneva tale da diverso tempo da circa una decina d'anni una un gruppo di compartisti che si trovano negli orti garibaldi non potevano costruire sulla loro sulle loro aree dichiarate edificabili dal piano regolatore perché il comune non aveva realizzato l'impianto fognario al servizio di queste nuove abitazioni ebbene per molto tempo hanno dovuto pagare l'imu senza avere il contraltare senza avere appunto la possibilità di costruire e ora finalmente l'aset si è assunta l'onere di fare l'investimento in parte con il pnrr quindi c'è una collaborazione tra aset e comune e in parte con i soldi dell'azienda pagano l'imu ma niente costruzioni licenze solo dopo dieci anni a sassonia manca la rete fognaria pnrr e aset ora realizzeranno i lavori un progetto che dovrà essere messo a gara entro il 31 dicembre quindi i tempi sono abbastanza abbastanza brevi ed ora vediamo anche lo sconcerto che ha generato in tutta la città la morte di un ragazzo sedicenne che si è tolta la vita ha lasciato un biglietto ma restano oscure le ragioni del suo gesto gli investigatori del commissariato di fano stanno passando alla lente di ingrandimento quel breve scritto che ha lasciato questo ragazzo che si è stato che si è ritrovato senza vita nella giornata di domenica scorsa intorno alle 19 nella sua stanza da letto la tragedia si è consumata in una casa del centro storico di fano dove lo studente viveva insieme con i suoi familiari difficile al momento decifrare quali tormenti possono aver motivato la terribile decisione nel foglietto non c'è scritto le cause c'è solo un addio un addio accalorato alla famiglia in modo particolare alla sorellina nella giornata di ieri erano attese disposizioni da parte della procura di pesaro riguardo alla ricognizione cadaverica e alla eventuale autopsia per insomma accertare come sono andate veramente le cose anche se l'esito è scontato vediamo anche di un incidente stradale sì un incidente stradale perché anche se non ha determinato gravi conseguenze ieri ha chiuso l'auto la superstrada per diverso tempo un furgone da eli si ribalta in superstrada cinque feriti non gravi paura per un conducente inserato a parole di missioni quest'ultimo è stato ricoverato alle torrette di ancona con l'eli ambulanza comunque la superstrada è stata chiusa per tre ore in modo particolare la careggiata mare della superstrada fano grosseto l'incidente si è verificato intorno alle nove vicino all'uscita per lucrezia di cartoceto una delle cinque persone coinvolte che viaggiava su un autocarro che si è poi rovesciato su un fianco è stata prelevata appunto dalla ambulanza e con l'elicottero e quindi è stata ricoverata all'ospedale di torrette per fortuna in serata è stata dimessa viaggiavano con lui e verso fano altri due componenti della sua famiglia sono tutti di origini straniere ed ora parliamo ancora della superstrada ma sotto un altro punto di vista fano grosseto il ponte nell'attesa della strada accordo tra i due sindaci per condividere iniziative di cultura e di sport ancora non viene realizzato questo collegamento diretto che lì in attesa da 30 40 anni non si sa quanto da quanto è stato inaugurato il primo tratto fano fosse sombrone di questa due strada che dovrebbe unire i due mari l'adriatico e il tirreno però c'è una certa intesa almeno a livello culturale almeno a livello di eventi tra i due sindaci infatti ieri si sono incontrati il sindaco massimo seri e il collega anton francesco vivarelli colonna sindaco di di grosseto ebbene qual è l'intesa che si è stabilita tra i due primi cittadini di scambiarsi un po i passaggi delle due i scusate gli eventi culturali delle due località fano promuove il suo festival passaggi un festival che si ipotizza come un'estensione del format con l'organizzazione anche nel grossetano della presentazione di libri e poi il brodetto feste che ormai viene conosciuto in tutta italia e non può mancare il carnevale ovviamente che potrà avere dei nuovi progetti anche promossi nella costa tirrenica mentre grosseto esporterà a fano la città visibile la notte visibile della cultura eventi di promozione e animazione culturale organizzate dalla fondazione grosseto cultura insomma c'è uno scambio che lega ancor più le due città in attesa che questo legame venga stretto venga formalizzato con il completamento della strada della superstrada passiamo a fossombrone passiamo a fossombrone e vediamo che c'è un'intesa tra due esponenti dell'opposizione in consiglio regionale sono marta ruggeri e michaela vitri marta ruggeri del movimento 5 stelle michaela vitri del partito democratico entrambe prendono l'impegno di monitorare la situazione sul futuro dell'ospedale quindi un impegno costante una visibilità costante su questa struttura che viene considerata fondamentale non solo per la città metaurense ma anche per tutto l'entourage dell'entroterra insanguinata in strada si scopre un incubo ancora violenze sulle donne vittima è una signora una signora sessantenne originaria dell'est europa il caso riguarda un 75enne fanese ex commerciante di carbone e poi giardiniere che è finito a processo per maltrattamenti lesioni e violazione della misura del divieto di avvicinamento nei confronti della ex moglie una sessantenne appunto originaria dell'est europa la quale lo ha denunciato raccontando in aula davanti al giudice 20 anni di maltrattamenti privazioni e violenze psicologiche insulti anche per le sue origini e quindi la donna ha raccontato 20 anni 20 anni di patimenti e ieri c'è stata la sentenza da parte del giudice che ha condannato l'uomo a nove mesi per lesioni e violazioni della misura ma non per i maltrattamenti per cui il fatto non dovrebbe sussistere condannato anche un risarcimento di 1500 euro tra i due era intercorsa anche la separazione civile e l'avvocatessa mara roccisano è pronta a ricorrere in appello vuole una sentenza anche per i maltrattamenti giriamo la pagina andiamo a frontone a frontone ma non solo a frontone perché questo articolo riguarda anche altre località interessa frontone interessa pergola mondavio e altri centri dove si moltiplicano le iniziative natalizie sono feste che meritano di essere partecipate di essere visitate ora il natale ingrana veramente la quinta dappertutto mercatini presepi e tanta tanta solidarietà la magica atmosfera natalizia ormai ha invaso tutta la valle del metauro e le colline circostanti nel prossimo fine settimana tanti sono i borghi pronti per replicare le iniziative tanti visitatori nonostante le certe condizioni hanno già affollato le iniziative di pergola dove è andata in scena la cioccovisciola e frontone e ha ospitato i tradizionali mercatini nel castello di babbo natà altro incidente automobilistico lo vediamo qui a fondo pagina schianto tra due auto due conducenti sono finiti all'ospedale si tratta di un incidente che si è di un nuovo incidente che si è verificato nella strada 424 della val cesano è accaduto ieri intorno alle 10 nei pressi di monte porzio all'altezza della caserma dei carabinieri coinvolte tre auto e due conducenti finiti in ospedale anche qui dunque un incidente stradale la pergolese è sempre una strada molto molto pericolosa senigallia bufera su getti sport e nel mirino del partito democratico convocazione di notte colpo di mano che cosa significa questo articolo che letto così è un po' criptico vediamo meglio ci sono state delle polemiche ieri mattina nella commissione comunale per la presentazione di un'azienda speciale si chiatta si tratta della getti sport che oltre al porto potrà gestire parcheggi verde pubblico musei e molto altro quindi un'azienda che viene così identificata dall'amministrazione comunale per gestire diversi servizi pubblici però il capogruppo del PD Dario Romano dopo avere contestato tutti i servizi che sono finiti in questo calderone a discapito delle cooperative che finora se ne occupavano c'è un certo accentramento appunto di questi servizi in un unico soggetto con un colpo di mano e una convocazione fatta di notte la maggioranza si fa la sua azienda speciale ha dichiarato appunto Dario Romano capogruppo del partito democratico una operazione fatta un po' alla chetichella secondo la opposizione che ha fini diversi da una gestione più funzionale dei servizi sempre secondo l'opposizione e poi vediamo un altro articolo di cronaca ladri in casa di due alluvionati di Borgo Molino non bastava l'alluvione a funestare la vita a ostacolare la vita delle persone ora ci si mettono anche i ladri ladri che possono essere più parati a sciacalli perché quando si colpisce ancora di più una famiglia che è già colpita dagli eventi avversi insomma la situazione è veramente deprecabile. Passiamo a qualche notizia di Pesaro dove vediamo che la nostra provincia ha fatto uno sviluppo, un ingresso verso le parti superiori della classifica che è stata stilata da sole 24 ore per la qualità della vita. Ebbene siamo al 25esimo posto su 107 province un risultato niente male la provincia di Pesaro Urbino si posiziona al 25esimo posto nella classifica sulla qualità della vita e avanza di 31 posizioni rispetto all'anno scorso rispetto al 2021 ed è la prima provincia nelle Marche più di Ancona, più di Fermo, di Ascoli Piceno, di Macerata quindi veramente un passo in avanti considerevole. E vediamo anche qualche analisi di questa promozione. Vediamo che nel dettaglio giustizia e sicurezza avanzano di 13 posizioni e siamo al decimo posto. Ambiente e servizi al dodicesimo, più 10. Demografia e società siamo al ventiseesimo posto, più 31. Cultura e tempo libero al trentaseesimo posto, più 25. Ricchezza e consumi al quarantanovesimo posto siamo più 5. Non vanno molto bene invece gli affari e il lavoro in quanto siamo un po' nelle parti basse della classifica e siamo al settantesimo posto e qui abbiamo perso 10 posizioni. Qualità della vita è un super balzo grazie a musei ciclabili e longevità. Pesaro Urbino registra la migliore performance italiana. Ricci, il sindaco di Pesaro, fa piacere ma il Besse è meglio, afferma il primo cittadino. E in quest'altra pagina invece abbiamo due commenti. Il primo è della presidente della Confindustria Alessandra Baronciani. Pesaresi resilienti, la cultura 2004 sarà la grande occasione. Il secondo commento invece del presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, che dice fuori l'orgoglio stiamo crescendo come territorio. Per Gragnola di Fondazione Carifano il risultato è la somma di tante potenzialità. Insomma, veramente, quando ci si mette insieme ambiente, cultura, infrastrutture, lavoro, giustizia, ebbè, si riesce a vivere con una maggiore qualità di vita e quindi la situazione migliora. Vediamo le altre notizie. Per l'ex consorzio, il giorno più atteso, il Consiglio dovrà sbloccare l'impasse. Si tratta dell'ex consorzio che dovrà realizzare le torri al porto di Pesaro. Il Comune è chiamato ad adeguarsi alla sentenza del TAR per rimuovere gli ostacoli. Oggi il Consiglio Comunale sarà chiamato ad adeguarsi alla sentenza del TAR per sbloccare la costruzione delle torri al porto. La deribera verrà presentata dall'assessore all'urbanistica Mila della Dora ed è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno appunto del Consiglio Comunale che si svolge oggi. Caprile, vogliamo l'incontro prima che i giochi siano fatti. Sono le associazioni ambientaliste che insistono perché vogliono dire la loro sugli investimenti che ci si appresta a fare per riqualificare i giardini di Villa Caprile. Questi splendidi giardini seicenteschi dove ci sono dei giochi d'acqua che hanno deliziato personaggi illustri che hanno fatto visita alla città di Pesaro e sono stati ricevuti a Villa Caprile. Ebbene sono le associazioni Italia Nostra di Pesaro e Fano, il WWF Marche, la Lega Ambiente di Pesaro, la Lupus Infabora che intervengono nel restauro di Villa Caprile. E poi vediamo qua invece che c'è un'assicurazione da parte dell'assessore del fare di Pesaro Riccardo Pozzi in merito al laboratorio zoo profilattico che dovrebbe sorgere a Torraccia. Qui ancora i cittadini protestano perché non sono veramente convinti che questa nuova istituzione poi non crei problemi di carattere ambientale, di carattere sanitario nel loro quartiere. Comunque Pozzi insiste e dice il laboratorio a Torraccia sarà a rischio zero. È un impegno che si assume l'amministrazione comunale. Vediamo la pagina della cronaca. Condannato un imprenditore che ossessionava la sua ex, inflitti due mesi per molestie. Si tratta di una 51enne che non poteva avvicinarla ieri la sentenza per questo imprenditore di 51 anni accusato di atti persecutori nei confronti della ex una infermiera di 50 anni. I fatti risalgono al 2020 quando la vittima aveva deciso di mettere fine, è un po' la storia classica, aveva deciso di mettere fine alla sua storia ma il 51enne era convinto che ci fosse ancora del margine per riallacciare i rapporti, insomma non si rassegnava alla fine della storia ed è stato condannato. Vediamo la pagina di Urbino, il sindaco Gambini vuole il terzo mandato, quindi ancora non si è stancato appunto di amministrare la sua città, sono due le strade percorribili. Il sindaco raccoglie l'appello della sua maggioranza ma prende tempo, fusione o legge per il capoluogo. Ebbene la notizia dovrebbe dare uno scossone al centro-sinistra che sta facendo i suoi calcoli per le amministrative del 2024 provando ad attuare il celebre listone con dentro di tutto e di più ammiccando anche ad azione di Massimo Guidi. Ebbene il sindaco Maurizio Gambini comincia le grandi manovre, c'è ancora un anno e qualcosa di più ancora per arrivare alle prossime amministrative ma la strada anche se è lunga comincia a essere percorsa fin da adesso. Ebbene questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il Corriere Adriatico, ora diamo un'occhiata al resto del Carlino. dove vediamo che c'è un'azione della Guardia Costiera di Fano. Pesce, controlli in vista del Natale, svuotati i frigoriferi di un ristorante. In azione i militari della Capitaneria di Porto di Fano. Sono stati passati al setaccio le rivendite ai locali pubblici. L'obiettivo è quello di garantire, ha detto la comandante della Capitaneria Stefania Battista, al consumatore prodotti genuini e ben conservati. Gli accertamenti intanto proseguono. Scatta un sequestro di pesce in un ristorante fanese. Il nome non viene evidenziato, viene mantenuto sotto silenzio. Però insomma c'è questa azione e quindi i consumatori possono così almeno per un po' stare tranquilli. Perché i controlli si fanno e se qualcuno sgarra paga. Da qualche tempo l'intera filiera ittica è al setaccio da parte dei militari della Capitaneria di Porto, che stanno controllando le rivendite all'ingrosso e al dettaglio, ma anche numerosi ristoranti di pesce fanesi. L'operazione di sequestro si dunque svolta nell'ambito di una vasta serie di controlli della Guardia Scottiera, che non riguardano solo Fano, ma sono estesi un po' in tutto il territorio. Solo due mesi fa, sempre a Fano, lo ricordiamo, è avvenuto il sequestro di prodotti ittici per il cattivo stato di conservazione. Quindi non mancano provvedimenti e purtroppo non mancano accertamenti anche per quanto riguarda cose che non vanno. Furgone si ribalta in superstrada, arriva l'elicottero, il traffico bloccato. Vediamo qui qualche immagine di questi problemi che sono sorti ieri mattina sulla superstrada Fano-Grosseto. Si è temuto il peggio per l'incidente, ma per fortuna si è risolto quest'ultimo senza gravi conseguenze. Solo molti disagi per molte persone che dovevano raggiungere le loro mete e hanno dovuto invece aspettare per lungo tempo che la strada si liberasse. Dal Tribunale vediamo anche qui l'evento che riguarda violenza sulle donne. Picchia la moglie, condannato un ex commerciante, nove mesi di reclusione per lesioni, ma c'è la soluzione per il reato di maltrattamenti e si profila il ricorso da parte dell'avvocato della vittima. Mezzo milione per trasformare la casa del parco. Approvato in giunta il progetto esecutivo, l'edificio sarà la porta d'ingresso dell'area verde e diventerà uno spazio polivalente. Questo è lo stato attuale della casa del parco, un tempo occupata dal Grizzly. che l'aveva adibita al proprio centro di attività. Questo invece sarà l'aspetto di come diventerà la casa quando sarà trasformata con un impegno considerevole anche dal punto di vista finanziario. Si spenderà circa mezzo milione di euro per realizzare questa reception del nuovo parco dell'aeroporto, un parco che ancora fatica a realizzarsi, ha veramente dei tempi lunghi, ma intanto la casa del custode dovrebbe essere il primo intervento a definirsi completamente e vedremo se sarà veramente così. La struttura per alcuni anni è stata la sede dell'associazione Grizzly, che ora ha sede nella Exe Bianchini di Gimarra. Allarme e povertà in crisi. Le famiglie giovani a Mondavio sono 47. I nuclei che hanno bisogno del costante sostegno della Caritas. La responsabile Ceramicoli, colpa anche del caro Bollette, tra Mondavio e Terre Roveresche sono 47 le famiglie che hanno bisogno di aiuto e la Caritas interviene. Qui abbiamo una intervista a Fiorello Ceramicoli che evidenzia la situazione di disagio. Qui invece abbiamo lo schianto di Monteporzio, schianto tra tre auto, i due feriti e successo sulla statale 424 della Valcesano, rimasta chiusa anche questa per un'ora e mezza con deviazione del traffico. Giriamo ancora la pagina e vediamo Urbino, dove la ricerca fa un passo in avanti. L'Università brevetta il mattone del futuro. Si tratta di un conglomerato fatto con scarti di legno, alcuni batteri e il risultato è un materiale innovativo, economico, che può assumere qualunque forma. Lo presenta il professor Simone Galeotti, mattone in legno sul tipo di quelli ideati a Urbino, uno dei batteri, questo utilizzati, si tratta della sporo-sarcina pausterii, è il corallo che si forma con lo stesso principio, è lo stesso batterio che poi forma il corallo. Un materiale da costruzione economico, a emissioni zero, composto da elementi reperibili nel territorio e dalle ottime qualità fisiche, termiche e acustiche. Ebbene, la Università non solo così svolge un'attività didattica di livello ideale, di livello culturale, ma anche di livello pratico. Le vie dei presepi si arricchiscono nuovi allestimenti, come quello in via Mazzini, con villaggio, con decine di personaggi sorpresa in cattedrale ad Urbino. E poi vediamo qui un input nei confronti del sindaco Gambini, Maurizio Gambini. Gambini accetti di fare un terzo mandato, la maggioranza è compatta, è auspica che passi la riforma che consentirà al sindaco di ripresentarsi. Attualmente un primo cittadino non può fare più di due mandati, ma c'è in atto un'iniziativa che potrebbe prolungare un mandato amministrativo. Nel prossimo consiglio si parlerà dei progetti in corso e quindi insomma la maggioranza compatta per quanto riguarda la nuova elezione e si parla nel 2024, come già abbiamo detto. Il comune di Cagli torna verde, rifatto il manto erboso dello stadio, interventi anche su tribune spogliatoi, creata un'area per bambini. Una buona notizia per Cagli e per gli sportivi di questo centro. Da 7 gennaio, quando la Cagliese ospiterà per la gara di campionato il Villa San Martino, si ritornerà a giocare nel comunale di Cagli. E questa è l'ultima notizia. A questo punto chiudiamo il giornale e vi do appuntamento per le prossime resegna stampa domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci.